va bene sperando siano riprese un attimo direi di finire il compito che ci siamo il compitino che ci siamo dati per oggi e quindi di affrontare l'altro esempio di caso d'uso quello più veloce più semplice però quindi per fortuna non sarà pesante come questo che consiste nel confermare l'appuntamento visto l'attesa prima di buttarci su quello ci sono delle domande pendenti su questo esercizio su questo punto mi chiede di essere un pochino digerito quello che vi so dire è che questo caso d'uso probabilmente è tra i più complessi che si possono immaginare che potremmo voler incontrare in termini di ramificazione quindi visto così per la prima volta è abbastanza potrebbe essere un impatto abbastanza pesante ma in realtà qui dentro abbiamo visto la maggior parte dei casi che si possono verificare con un sotto insieme più piccolo negli altri casi d'uso è quasi sempre però vero che la parte delle estensioni tende ad essere sicuramente più complicata e spesso più lunga della parte del scenario principale perché le cose che possono andare storte o diversamente sono sempre maggiori di quelle che possono andare fritte non solo nei casi d'uso anche nella vita vediamo l'altro allora io ho già preparato con coppia e incolla la stessa tipo di tabella in cui andiamo a riportare le informazioni sul caso d'uso confermare appuntamento in lista d'attesa confermare appuntamento in lista d'attesa ho lasciato praticamente invariati quindi non li ho cancellati lo scopo perché siamo sempre all'interno del sistema funzionale di gestione e prenotazioni ho lasciato il livello user goal e adesso leggiamo insieme se hanno senso i stakeholder con i loro interessi li ho lasciati così perché pensavo che probabilmente non sarebbero cambiati di molto vediamo se dobbiamo modificarli o no il resto l'ho ovviamente cancellato perché il caso d'uso è diverso quindi dovremmo riprogettare e descriverlo specificamente per questo caso d'uso allora qui stiamo parlando di un caso d'uso in cui il paziente in precedenza aveva richiesto una prenotazione ma era per un motivo o per l'altro finito in lista d'attesa e adesso il sistema sta contattando l'utente per dirgli guarda che si è liberato un buco accetti oppure no qual è l'interesse dei vari stakeholder nel fatto che il caso d'uso abbia successo e quello che l'appuntamento venga confermato cioè che l'utente risponda sì e direi che sono gli stessi che abbiamo già scritto qua come stakeholder interest il paziente risponde sì perché così ha un appuntamento il medico risponde sì perché così quell'ora che era diventata buca si è riempita e lo studio medico ovviamente lavora a pieno recino quindi direi che le motivazioni di stakeholder interest sul fatto che un appuntamento proposto perché si è creato un buco in buco proposto ad un utente in lista d'attesa venga accettato sono le stesse motivazioni che fanno sì che un nuovo appuntamento venga accettato nel caso di inserisci nuova prenotazione quindi questi li possiamo lasciare così allora l'attore primario è il paziente perché ovviamente colui che interagisce con il sistema nel svolgimento di questo caso d'uso sarà il paziente che viene contattato sarà il sistema e dovrà rispondere al sistema in una delle modalità previste in tension in context qual è l'obiettivo dell'utente in questo caso d'uso allora innanzitutto abbiamo un contesto meglio definito che nel caso precedente nel caso precedente genericamente l'utente voleva portare qui il contesto è più specifico il contesto è quello che io sono già in lista d'attesa sono in attesa di una prenotazione e vengo contattato dal sistema quindi cosa voglio fare? voglio confermare la mia prenotazione nel miglior dei casi l'offerta che mi viene fatta l'appuntamento per me è perfetta e l'accetto al volo quindi l'intenzione, l'obiettivo dell'utente è accettare la disponibilità proposta proposta al sistema per un paziente in lista attualmente in lista d'attesa quindi il paziente che attualmente è in lista d'attesa vuole vediamo poi questo verbo volere perché ci ricorda l'obiettivo vuole accettare la disponibilità proposta dal sistema questo è il suo obiettivo che il sistema gli propone aggiudiamo ancora un altro pezzo per un paziente in lista d'attesa è contattato dal sistema cioè non ti basta essere in lista d'attesa devi essere proprio tu che sei stato contattato non il tuo fratello però il vero obiettivo è questo accettare la disponibilità proposta dal sistema il resto è il contesto accettare la disponibilità del sistema quando? quando sei in lista d'attesa e il sistema ti ha contattato e ti descrive il contesto in cui in questo caso di uno si svolge ok precondizioni allora precondizioni che l'utente sia risalto riconosciuto come paziente sappiamo ma qui abbiamo delle precondizioni interessanti da scrivere il fatto che l'utente deve essere in lista d'attesa il paziente deve essere in lista d'attesa se il paziente non fosse in lista d'attesa tutto questo non ha senso ha senso che il sistema contatti di un utente che non è in lista d'attesa? no quindi questo caso di studio non parte neanche quindi una delle precondizioni che il paziente o meglio la richiesta perché non è paziente che viene messo in lista d'attesa bensì le richieste del paziente è in lista d'attesa questo lo possiamo vedere probabilmente anche dal diagramma dell'attività ma ci dice una cosa in più se ci pensiamo pensiamo all'esercizio che abbiamo fatto prima di andare a pensare a tutti i casi malati in cui vado a cercare disponibilità magari non ce n'è nessuna qui se a un certo punto dovessi scrivere nello scenario vado a cercare il sistema trova o cerca o visualizza le richieste in lista d'attesa o la richiesta del paziente non so qualcosa di questo genere so che c'è non ho più il caso in cui non ci sia quel paziente non abbia nessuna richiesta in lista d'attesa c'è di sicuro c'è scritto lì ok quindi le precondizioni servono a due cose uno come barriera d'ingresso se la precondizione non è risicata questo caso d'uso non si può fare nessuno può farlo il sistema non lo deve attivare non deve permettere di farlo ma due una volta che sono entrato avere alcune certezze che posso sfruttare poi nello svolgimento e quindi non devo più andare a verificare se sia vero oppure no un po' come il bollino che vi fanno quando entrate in discoteca in un locale se hai il bollino vuol dire che hai pagato l'ingresso non è che devo controllare ogni volta il biglietto eccetera magari non ti faccio entrare ma se ti ho fatto entrare da quel momento in poi hai superato un controllo non ti ricontrollo più perché dato so che avevi certe condizioni in vista e quindi è per quello che ci conviene pensare un attimo a quali sono le certezze che abbiamo nel momento in cui entriamo oltre al fatto che il paziente siamo sicuri che sia un paziente ma questo è facile e non lo scriviamo in ruolo e poi un'altra cosa che sicuramente è vera è che esiste oppure sia liberata o no no si è liberata non lo cremo esiste una disponibilità non confermata non confermata non ancora confermata per la specialità richiesta cioè se non c'è un buco da riempire non ha senso questo caso ha senso se esiste almeno un buco del tipo giusto del tipo di specialità medica giusta io stavo per scrivere si è liberata la disponibilità no non è vero non è vero perché la disponibilità potrebbe esserci perché effettivamente un utente si è cancellato oppure potrebbe esserci perché un medico ha aggiunto delle disponibilità in più che prima non c'era quindi compagno della disponibilità cerchiamo di riempire con le strattese ok quindi non sto a sindacare sul motivo per cui questa disponibilità c'è queste sono condizioni vero o falso c'è o non c'è perché ci sia è un problema ad altri non è un problema mio qua se c'è disponibilità vado avanti se non c'è disponibilità non lo posso fare punto non ha senso farlo di nuovo una volta che ho passato ho varcato il portone di ingresso so che questa disponibilità c'è e quindi non si verificherà più non dovrò mai più non dovrò qua dentro contemplare la possibilità o l'errore che di disponibilità non ce ne sia nessuna che l'utente dica accetto ah no però non è disponibile è disponibile perché c'è scritto qua quindi cosa succede nel caso migliore nel caso migliore il paziente avrà un appuntamento confermato quindi il paziente ha la conferma della sua richiesta e poi lo diciamo in un modo diverso ma è la stessa cosa è la disponibilità libera è stata riempita ci abbiamo fatto contenti in due abbiamo fatto contento il calendario perché aveva un buco e l'abbiamo riempito abbiamo fatto contento un utente perché era l'istrattesa e adesso l'abbiamo confermato poi è la stessa cosa è questa frase è semplicemente quella relazione conferma che la vedo da un punto di vista la vedo dall'altro punto di vista l'ho esplicitata un po' meglio ho detto due volte la stessa cosa da due punti di vista molto diversi ma la sostanza è quella ciò che mentre nel primo caso d'uso come successo era successo dal punto di vista dell'utente qui è anche successo dal punto di vista del sistema che è riuscito tramite i suoi automatismi a riempire un buco quindi a rendere più efficiente il tuo studio medico garanzie minime questo è più facile se va tutto male cosa può succedere? che quell'utente rimane in lista d'attesa se di peggio non può capitare non è che ti cancello dalla lista d'attesa perché mi stai antipatico perché hai risposto male o perché non hai risposto in tempo se va bene ti ho dato l'appuntamento se va male rimani in lista d'attesa e ci eri in lista d'attesa io so che eri in lista d'attesa quindi nel peggiore dei casi rimani in lista d'attesa io non devo scrivere se era in lista d'attesa ci rimane se no no qui lo so che era ciò che c'è scritto nel precondition da qui davanti è verità assoluta quindi il paziente nel caso peggiore rimane in lista d'attesa la richiesta del paziente rimane in lista d'attesa a questo punto siamo pronti a descrivere cronologicamente che cosa succede prima di tutto ci chiediamo qual è la causa che fa partire questo caso d'uso esiste una causa interna al sistema un grilletto che scatta sì in questo caso sì in questo caso il fatto che al paziente venga proposto di accettare una disponibilità non dipende dal paziente non può decidere lui quando lo deciderà il sistema e qual è la condizione per cui il sistema può deciderlo il sistema internamente a un certo punto dice ah capita qualcosa un qualche evento evento vuol dire qualcuno fa qualcosa o qualche altra informazione arriva dall'esterno per cui il sistema decide che è opportuno fare questa azione e quindi contatta l'utente affinché porti avanti questa interazione allora la causa è che ci sia una nuova disponibilità quindi nel sistema è comparsa una nuova disponibilità e ovviamente ho persone in lista d'attesa perché se compare una nuova disponibilità e non c'è nessuno in lista d'attesa resta lì quella disponibilità quindi ciò che fa scatenare è comparsa è rimasto da prima questa cosa qui togliamo una nuova disponibilità e c'è almeno una richiesta in lista d'attesa per quella specialità ricordiamoci che le disponibilità sono legate ai medici quali sono legati alle specialità quindi se si libera un posto dell'oculista e tutti sono in attesa dell'ortopedico non me ne faccio ecco basta una nuova disponibilità e non dico il perché se vogliamo posso dirlo per informazione però la causa vera è che la disponibilità è comparsa se vogliamo essere più chiare per chi legge essere chiare non è mai male però lo mettiamo tra parentesi perché non fa parte della condizione dell'evento e comparsa l'evento è che prima non c'era disponibilità adesso c'è ad esempio a causa di una cancellazione di una nuova disponibilità inserita e poi c'è ancora un'altra causa in cui si può creare un buco è quando io ho riempito un buco cioè un utente si cancella non c'è più nessuno in lista d'attesa e posso andare a chiedere ai utenti che magari vengono in avanti nel tempo se vogliono anticipare allora in quel caso si crea un altro buco ho anticipato un utente e si è creato un altro buco che non è dovuto una cancellazione ma è dovuto uno spostamento oppure di appuntamenti spostati puntini puntini io non so come crescerà questo sistema di prenotazione dello studio medico magari diventerà sofisticatissimo magari un domani ci consorziamo tra otto studi medici e quindi magari riesco a scoprire che dall'altra parte la città c'è una disponibilità e quindi potrei dirottare i miei utenti di là non voglio che questo caso di studio dipenda da cose che non ho ancora pensato da meccanismi di gestione della disponibilità che sono più complicati io rimango semplice se c'è un buco contatto qualcuno per riempirlo il perché si sia formato un buco non è più un problema non è un problema di questo caso d'uso quindi ho messo alcuni esempi tra parentesi ma non sono per nulla vincolanti sono esempi che scriviamo poi ci ricordiamo quando lo leggiamo ma la vera condizione è questa è comparsa ok allora cosa succede? Scenario principale di successo ricordiamoci un po' cosa avevamo disegnato nel diagramma dell'attività a questo proposito avevamo dunque ricordiamoci che noi questo l'avevamo elaborato a seguito di una cancellazione poi abbiamo detto abbiamo appena detto che in questo caso d'uso la cancellazione è una delle possibili cause però andiamo solo per riferirsi da memoria cosa capita quando qualcuno cancella che sistema troverà il prossimo paziente candidato ammesso che ci sia ma noi come precondizione abbiamo scritto che c'è il paziente candidato quindi solo se lo trova ci mi interessa e eccoci qua il sistema invia un sms al paziente candidato e il paziente candidato risponde se accetta l'appuntamento viene confermato se rifiuta vabbè il sistema cercherà un altro candidato ma questo caso d'uso con questo paziente specifico è finito quindi il caso d'uso inizia qua scusate inizia qua e finisce con questo signal sending la parte della gestione del rifiuto ovviamente non fa parte di questo caso d'uso perché coinvolge un utente diverso qui non può essere lo stesso attore quindi il primo qua dentro ci sta ad esempio una cancellazione oppure qualche cos'altro oppure abbiamo detto che ci sono quel sito qua si formeranno eventualmente disponibilità a cascata sono vari motivi diversi per cui si può entrare qua dentro ok partiamo da qui quindi la prima azione che viene fatta è che viene inviato un segnale al paziente e poi il paziente cosa può fare l'abbiamo descritto qua può collegarsi al sito e rispondere può mandare un sms di risposta oppure può non rispondere e basta allora il nostro caso d'uso al primo passaggio ci sarà il sistema che contatta l'utente quindi il sistema invia all'utente un sms con due core dovrà avere questo sms i dettagli della disponibilità ed il link ed un link per poter rispondere potrei dirgli caro utente c'è una disponibilità punto vai a vedere sul sito sarebbe infetente una cosa del genere meglio scrivere c'è una disponibilità giovedì mattina alle 9 per accettare o rifiutare clicca su questo link così così lo gradisco già di più se invece devo dire c'è una cosa vai a vedere sul sito collegati inserisci la password vai nella sezione tra i dettagli visto che il mio interesse è quello che l'utente accetti cerchiamo di non mettere degli ostacoli in più mantenendo pura sicurezza ma cerchiamo di sveltire il processo quindi vedendo l'SMS lui è già in grado probabilmente già di decidere e quindi sarà pronto a dirmi sì o no l'azione più veloce che può fare qual è? e lui vede quel link ha uno smartphone tocca il link e viene portato direttamente sulla pagina del sito dove ci sarà di nuovo scritto ovviamente la data e l'ora e due bei pulsantoni accetta non accetta accetta questo appuntamento oppure rimane in lista all'attesa quindi dopo che il sistema ha mandato l'SMS all'utente caso rapido caso semplice l'utente clicca sul link quindi l'utente apre la pagina specificata dal link in realtà in realtà non ho detto qua appositamente l'utente clicca sul link perché non lo so non lo posso sapere se lui ha cliccato su quel link perché è un'azione che lui ha fatto sul suo telefono e non è sul mio sistema informativo il fatto di toccare il link io so che a un certo punto dal browser del suo telefono dal browser del suo pc perché ha toccato il link perché l'ha ricopiato a mano in qualche modo arriva su quella pagina il fatto che arrivi su quella pagina lo so perché quella pagina è mia la sto disegnando io ok quindi non so mai cosa ha fatto l'utente su sistemi informativi che non siano quello che sto prosettando ma so che a un certo punto è arrivato sulla mia pagina perché mi è arrivata la richiesta a questo punto cosa fa il sistema il sistema mostra i dettagli della rispondibilità e chiede all'utente e chiede conferma all'utente 4 per fare il paziente perché lo chiamiamo utente sappiamo chi è il paziente il paziente conferma la data proposta e a questo punto il sistema tanto per chiudere conferma l'appuntamento ed invia un sms di conferma ulteriore scusate conferma l'ho usato tante volte ma in realtà è sempre la stessa cosa è quello che succede c'è l'utente da parte sua conferma e l'utente il sistema riepiloga e poi invia un sms di conferma perché mi sono ricordato che nel processo c'era qua sotto mi sembra che questo sia il percorso più lineare poi ce n'è un altro di percorso a questo punto siamo poi già nelle estensioni che è quello in cui sappiamo che l'utente può anche rispondere via sms risponderà con sì o no qualcosa del genere allora il fatto che il paziente risponda via sms dove lo inseriamo dove lo innestiamo al posto del punto numero due perché se risponde via sms sicuramente non ha cliccato sul link quindi abbiamo due a punto uno facciamo anche mettere punto uno perché poi ci sarà da fare posso scrivere il paziente ha risposto via sms ha mandato un sms di risposta non proprio perché non so se l'ha fatto io so che il sistema riceve un sms dall'utente quindi andrei a tracciare quello il sistema riceve dall'utente un sms con scritto sì o di conferma sono scritto che accetta perché poi può darsi ricordiamo la conferma di sms non permette più al sistema di interagire altre volte quindi sulla base di questo il sistema poi deve decidere di solito lo stesso soggetto qua però l'utente fa una parte di azioni che è al di fuori del mio sistema informativo quindi lui fa cose ma quella cosa lì non riesco a vedere la regola generale è quella ma ci sono casi in cui la realtà vince sempre sulla regola lo so che per voi parzialmente uno shock perché purtroppo molti vengono da me e allora mi dicono ma allora devo sempre fare così in questo caso io sempre non riesco a dire sì la regola è sempre questa perché se fosse una regola così facilmente codificabile non servirebbe per il progettista quindi normalmente c'è un'alternanza però a volte come in questo caso l'alternanza avviene come si dice in modalità multicanale cioè io sto parlando sia via web che via cellulare e allora ci sono alcuni passaggi che probabilmente sono gestiti dal cellulare e non dall'applicazione web e quindi saltano non mi vedo nel caso di un'applicazione puramente web sì è vero quella regola che abbiamo detto prima non dico sempre è normalmente vera magari vengono a mente delle sezioni quando sistemi più complessi ovviamente avrò soluzioni più complesse allora nel caso in cui il sistema riceve dall'utente un sms e un sito sì cosa fa il sistema è qui tutto insieme appena ricevuto passa vai o continua l'abbiamo scritto prima vai continua passa al punto al punto 5 cioè ricevere un sms con sì così che il sistema possa considerare confermato l'appuntamento e inviare un sms di conferma di nuovo l'utente non posso mettere questa non le dà di risposta nello scenario principale se lui dice si si lui dice visto che questo è più corto mi immagino che lo scenario principale possa essere quello via sms e quindi quello via via link web diventare un'estensione sì entrambi sono strade di successo potremmo anche spostare è equivalente tanto stiamo dicendo che sono tutte alternative è solo una modalità di descrizione questa è che il template proposto dagli svizzeri che stiamo seguendo non prevede una sezione che si chiami alternative success scenario se no lo definirei lì e quindi devo chiamarne uno main e gli altri sono estensioni poi ho un 2A 2 scusate B ma qui l'1 non serve perché in realtà non ho faccio tutto qua quindi 2A poi ho un 2B in cui il sistema riceve dall'utente un sms con scritto no allora in questo caso cosa deve fare il sistema se riceve un sms di diniego anziché di conferma salutare quell'utente termina con fallimento mentre nel primo caso ovviamente terminavo con successo perché rientrando nello scenario principale finivo nel successo normale poi c'è il terzo caso in cui l'utente non fa niente non risponde o risponde con un messaggio non decodificabile allora ho un caso a questo punto 2C il sistema riceve il sistema riceve dall'utente un sms con testo non decifrabile oppure oppure il caso ancora l'ultimo il sistema 2D il sistema non riceve dall'utente né un sms né la visita sulla pagina del sito no? tra queste due possibilità che possono avvenire appunto se l'utente ha scritto una schifezza si sta d'accordo sul peggio per lui peggio per lui e quindi passo all'utente successivo che magari risponde in modo decente se il sistema non riceve dall'utente né un sms né una visita su pagina del sito ovviamente come abbiamo detto dopo 15 minuti mi pare che il testo dicesse 15 minuti anche qua ricordiamoci che il fallimento è di questo caso d'uso con questo paziente poi riparte il processo che contatterà il prossimo paziente in lista non è che sta fallendo tutta l'assegnazione del buco ok questo quindi il punto 2 è un punto in cui si apre un universo di possibilità 5 possibilità diverse per l'utente clicco sul link rispondo sì rispondo no rispondo blablabla oppure non rispondo in tutti i casi tra nel primo il caso d'uso si conclude subito nel primo caso c'è il punto 2 invece l'utente il sistema mostra i dettagli di disponibilità e chiede conferma all'utente allora il punto 3 è un punto deterministico tranquillo non possono esserci errori oppure possono esserci errori anche nel punto 3 allora la disponibilità c'è è scritto nella precondizione che c'è quindi non c'è il rischio che il sistema nel cercare di mostrare la disponibilità scopra che non esiste c'è l'ho verificato prima prima di mandargli l'SMS e l'SMS lo sto mandando uno per volta proprio per evitare che mando la disponibilità 3 il primo risponde gli altri dicono in alto totale e mando uno per volta cadenzato quindi qui non ho problemi qui il punto 3 non ha alternative di sicuro quando l'utente arriva sul sito il sistema può mostrare di quell'informazione punto 3 non ha alternative punto 4 c'è di nuovo di mezzo l'umano e questo c'è sempre qualche alternativa da gestire il paziente conferma la data proposta allora questa videata qui che cosa avrà ce la stiamo immaginando data e ora bottone si accetta bottone no rimane in lista d'attesa quindi anche qua ci saranno due alternative possibili il caso 4 è quello in cui lui prema il bottone si accetta poi abbiamo un caso 4A che è quello in cui il paziente rifiuta la data proposta e il punto 4B in cui il paziente non risponde per un certo tempo e in entrambi i casi l'effetto è sempre lo stesso paziente il caso d'uso viene dichiarato fallito il paziente rimane in lista d'attesa caso 5 il sistema conferma l'appuntamento invia un sms di conferma allora il caso 5 ha delle alternative possibili direi di no cioè a quel punto la disponibilità c'era il paziente ha detto sì che gli va bene c'è semplicemente più da mostrare una videata del tipo va bene adesso puoi scollegarti perché abbiamo fatto tutto e ti matto anche mi ha dato un sms ok quindi quando facciamo le estensioni noi o la chiudiamo come in questo caso semplicemente con un passaggio ciascuno come siamo fortunati oppure con una sequenzina di passaggi ma al termine di ciascuno di questi passaggi o sequenzina di passaggi potrò scrivere tre cose termina con successo termina con fallimento oppure continua su un altro punto continua vai a torna al passo tal dei tali scrivetela come volete ma vuol dire che rientra in una sequenza precedente mente già definita che può essere una sequenza dello scenario principale se sono fortunato oppure anche una sequenza già che fa parte delle estensioni quindi in qualche modo vanno chiusi questi ciascuno di questi casi ciascuno di queste estensioni devo dire poi come si conclude o conclude il caso d'uso oppure permette di recuperare l'esecuzione di uno scenario precedente del caso d'uso vedete che c'è continuo al punto oppure termina fallimento termina con successo questo è un po' più semplice vero? domande? fame o sonno? ci vediamo un attimo grazie a tutti grazie a tutti